ed eccoci qua con paolo razzaboni siamo stati anche colleghi praticamente perché hai lavorato anche a forlì ho visto che hai un lungo curriculum come ortopedico si è stato anche a sydney in australia una domanda veloce così insomma da più che altro insomma per sapere che differenza hai trovato nelle organizzazioni sanitarie australiane rispetto quelle italiane perché deve esserci una bella differenza secondo me ma io dico sempre che in australia hanno preso il meglio del nostro sistema sanitario italiano e il meglio del sistema sanificano quindi c'è un sistema misto pubblico privato che funziona con degli standard di qualità ai di servizi veramente veramente molto alti quindi sono rimasto io stesso sorpreso da questo esperienza che è stata obiettivamente anche bene bene vorrei era era una mia curiosità e vorrei continuare con te il discorso che facevamo nella seconda parte della trasmissione e era relativa al cambiamento dei materiali ma era anche reati relativo ad una delle cose più perniciose che può capitare in ortopedia che è quella delle infezioni ortopedico le infezioni post operatorie o anche a distanza di tempo dall'operazione ecco volevo sapere se le tecniche mini invasive riducono anche quest'aspetto qui ma direi proprio di sì nel senso che l'infezione è ovviamente la complicanza peggiore in assoluto per protesica d'anca ma la protesica in generale in ortopedia insieme alle complicanze di tipo tromboembolico è estremamente vantaggiosa la via mini invasiva perché riducendo le perdite ematiche oggi dopo anni di esperienza con un tempo operatorio estremamente ridotto perché oggi ci agisiamo su 45 50 minuti di chirurgia di chirurgia protesica il risparmio di tutte le inserzioni muscolo tendine sono tutti gesti chirurgici che riducono il rischio dell'infezione che è vero secondo la letteratura scientifica è presente ma se il chirurgo ci mette del suo per ridurre questo rischio tramite la via mini invasiva è possibile è un grande vantaggio per il paziente per quel che riguarda i materiali come si si sui materiali è interessante questo discorso ti avevo chiesto qualcosa anche sulle protesi medicate che cosa significa questo questo termine anche per per chi ti ascolta ecco il mondo protesico diciamo è stato stravolto negli ultimi anni quindi con l'introduzione di protesi di grandi di grandi livello dalle protesi medicate alle protesi di rivestimento alle alle protesi tradizionali in tutti queste tipologie di protesi però il grasso in avanti è stato fatto proprio dall'utilizzo dei materiali stessi delle delle protesi e come dicevamo prima in italia ma anche nel resto d'europa a parte il mondo anglosassone oggi la tendenza è quella di utilizzare protesi cosiddette press fit cioè non cementate mentre il mondo anglosassone il cemento ancora la fa della padrone perché sono convinto che sia quello il mezzo migliore per fare integrare le protesi realmente si osservano che queste protesi fatte di titanio rivestiti di materiali che si devono osto integrare con l'osso anche con l'osso più osteoporotico hanno dei follow up a distanza di moltissimi anni ormai con scarsissimi segni di osteorefazione di riesce osseo e quei segni che mettono in allarme per una immobilizzazione sia settica che non settica dell'impianto protesico quindi sicuramente scusami non volevo interromperti purtroppo la linea è disturbatissima quindi ti volevo fare questa domanda sul discorso delle protesi credo che hai dato una risposta molto esauriente anche come devo dire una certa sicurezza da parte nostra che eventualmente dovremmo potremmo sottoporsi a questo tipo di intervento mi interessava la parte riabilitativa perché nelle vecchia chirurgia la parte riabilitativa era drammatica nel senso che queste persone riprendevano a camminare dopo 40 giorni insomma e con dei gravi con dei dolori lancinanti muscolari eccetera ecco siccome tra l'altro lì gli ospedali privati c'è una bella struttura riabilitativa lì a villa delle orchidee che io conosco molto bene che sono dei ragazzi veramente entusiasti anche dell'opera che personalmente preparati anche proprio entusiasti del loro lavoro volevo sapere se è vero che conta quasi una buona riabilitazione conta quasi come un buon intervento ando ai miei pazienti di sempre che quello che devo fare io viene fatto in un'oretta circa quello che devono fare loro deve essere svolto nell'arco di due tre mesi ma di fatto la riabilitazione è una riabilitazione che inizia immediatamente io ricordo ai rizzoli erano più le cose che i pazienti non dovevano fare di quelle che dovevano fare rimanevano a letto non potevano sedersi non potevano flettere non potevano ruotare non potevano fare un sacco di gesti quindi il paziente era terrorizzato fondamentalmente oggi viene concesso ai pazienti di iniziare subito a flettere a muovere l'anca vengono messi in piedi in prima giornata vengono fatti andare in bagno vengono accompagnati nel seconda giornata fare le scale salire scendere le scale quindi già dopo cinque giorni questi pazienti hanno una grande autonomia dal punto di vista di ambulatorio che consente loro di essere dimessi a domicilio già in sicurezza è chiaro che come dico ai pazienti il difficile poi cercare di rinforzare tutti i muscoli che hanno sofferto magari per anni per il vecchio assetto posturale scorretto legato alla patologia che c'era prima e quindi il motore della protesi l'investimento su cui devono fare è sicuramente il periodo riabilitativo ecco per far durare la protesi il più a lungo possibile ecco ti volevo chiedere oltre abbiamo parlato di anca che forse è la più esemplificativa ma non solo anca secondo me assolutamente anche in chirurgia protesica di ginocchio oggi la chirurgia è cambiata l'avvento della robotica recentemente la riscoperta della robotica in chirurgia soprattutto protesica di ginocchio la sta facendo da padrone come ci dato tu prima il grande taglio non fa più grande chirurgo oggi è la precisione dell'accuratezza nei dettagli che consente il recupero dei pazienti noi li vediamo in ambulatorio mi piacerebbe tanto che molti vedessero in ambulatorio al primo controllo questi pazienti spesso anche noi siamo sorpresi anche nelle protesi di ginocchio arrivano già che hanno abbandonato un bastone e quasi il secondo lo usano così giusto per per tenerlo in mano ma il recupero è veramente rapido enti sono molto contenti ecco volevo tornare un attimo al disco ad un discorso che hai fatto all'inizio ma che ecco quando è cominciata questa protesica bilinvasiva parlando anche con i nostri amici comuni con francesco eccetera si parlava proprio di indicazioni restrittive per gli obesi non potevi far dice mentre invece adesso si è raccontato che indicazioni della chirurgia ormai non hanno più restrizioni come avevano all'inizio assolutamente sì oggi sono io non utilizzo più le tecniche tradizionali ormai ormai da anni perché prendendo confidenza con il gesto ovviamente diventa più facile applicarlo alla maggior parte dei pazienti o la totalità dei pazienti ma non solo oggi anche le revisioni delle protesi che sono state fatte magari per via posto laterale per via laterale preferisco affrontarle per via anteriore mini invasiva perché è un tessuto cosiddetto anatomicamente vergine non c'è tessuto cicatriziale e la confidenza ormai acquisita consente di sfruttare la mini invasività anche gli interventi di revisione con dei recuperi sorprendenti anche se ovviamente la chirurgia di una chirurgia molto più complessa rispetto alla chirurgia tradizionale dei primi impianti però ormai questa questa applicazione è nella totalità dei pazienti ecco quando praticamente siamo verso la fine della trasmissione chiedo sempre cosa vedi domani o dopodomani cioè la ricerca in questo ambito in questo percorso che stai facendo che è un percorso personale professionale ma anche un percorso che è importante per tutti noi diciamo avere professionisti preparati in questo campo che ci fanno recuperare dopo interventi che una volta erano molti invasivi con chirurgia in invasiva si fanno recuperare molto prima e avere meno rischi quali sono secondo te le le prospettive di sviluppo la ricerca dove sta guardando in questo momento ma anch'io spesso me lo chiedo ogni tanto penso io sono molto curioso quindi mi chiedo spesso che cosa potrebbe succedere nei prossimi anni che cosa potrebbe arrivare di nuovo come dicevo prima oggi la chirurgia robotica ha ripreso grande piede quindi probabilmente il futuro ci proietterà in dei programmi di software estremamente avanzati per la chirurgia protesica sia di anca che di ginocchio oggi la robotica ha un campo di applicazione soprattutto legato all'ambito del ginocchio ma mi aspetto che in un futuro sia sia di grande di grande attualità anche per la protesica da anca obiettivamente faccio fatica a pensare qualcosa di più di più all'avanguardia di quello che c'è oggi però se pensiamo ai cellulari a quello che è stata l'evoluzione del cellulare negli ultimi 30 anni probabilmente anche in chirurgia ortopedica succederà qualcosa di analisi bene noi ti ringraziamo tanto per quello che ci hai detto per per come l'hai detto perché insomma chissà chissà sa parlare chissà le cose chi le fa ecco quindi si è stato molto chiaro e credo che dare fiducia alle persone basata sulle evidenze non fiducia così a prioristica secondo me è la cosa più importante ti ringraziamo speriamo di averti ancora ospite magari diviso di a persona in trasmissione ok speriamo grazie per l'ospitalità grazie a te carlo in resia